Approvata a Palazzo San Giorgio la mozione presentata come primo firmatario dal consigliere del PD Giose Trevisonno relativa al piano operativo sanitario regionale. Con 22 voti a favore e 3 astenzioni, il Consiglio Comunale di Campobasso chiede al sindaco del capoluogo di regione di promuovere una mobilitazione di tutti gli amministratori locali molisani affinché si chieda al governo un'aderoga alla normativa Balduzzi e la modifica immediata del piano operativo sanitario, sollecitando inoltre l'invito alla delegazione parlamentare molisana a discutere del tema in consiglio. Sulla stessa linea il sindaco Roberto Gravina. L'intenzione al rimarcato è quella di affrontare il tema del piano operativo sanitario regionale in una seduta monotematica del nostro Consiglio Comunale, alla quale saranno invitati a partecipare i rappresentanti della consulta cittadina dei servizi sociosanitari e la delegazione parlamentare molisana per un confronto diretto e propositivo che la nostra città vuole incentivare e promuovere anche attraverso l'atto portato dal consigliere Trivisono l'attenzione all'approvazione dell'assise.